Allora, vediamo dov'è. Slavia Maischitz vive a Roma e si occupa di giornalismo e editoria. È membro di Ubuntu.com e del consiglio di Ubuntu.it. Parloci un po' della tua attività e del progetto Ubuntu Women. Io sono, sì, mi occupo di giornalismo, sono una speaker radiofonica e per esempio appunto mi occupo appunto di autore esordienti e mi occupo di cultura in una radio. E all'interno di questa realtà e realtà in maniera abbastanza occasionale mi sono accostata al mondo di Ubuntu e di sopra in sorsa. È stata una cosa abbastanza curiosa perché effettivamente il mio interesse è nato proprio un interesse filosofico, cercando un po' di capire quelle che erano le tematiche, gli elementi di libertà che sono nascosti e che sono appunto all'interno del mondo del concerto del software libero. Da quando lì quindi ho cominciato a scrivere degli articoli e mi sono un pochino più avvicinata a questo mondo. In anche circa tre anni fa ho cominciato a entrare direttamente nella comunità Ubuntu, ho cominciato a essere utente, prima di tutto e poi ovviamente ho entrato all'interno di questa bellissima comunità. Al momento sono membro del Consiglio, quindi sono una delle responsabili della comunità Ubuntu e mi occupo di gestire le relazioni con i media, naturalmente. È interessante tutto questo perché poi uno dei percorsi che noi stiamo cercando di portare a Matti è soprattutto quello di avvicinare la diversità. Abbiamo appena fatto operato un codice contro le moleste per facilitare l'avvicinamento di persone tra le esperienze più diverse. Un punto è un mondo mare, un mondo variegato, la comunità lo è altrettanto. Per cui per noi era per esempio molto importante riuscire ad avere un apporto femminile di rilievo. Per questo è nato il progetto.woman, prima di valenza nazionale e di cui mi sono stata portatrice appunto in Italia insieme a Silvia Bindelli. In questo progetto noi cerchiamo di formare soprattutto delle speaker che possono parlare del progetto e soprattutto rendersi conto che non è necessario essere un tecnico per poter avvicinarsi al mondo delle open source di un punto. Questa per esempio è una grande ricchezza, cioè la capacità di poter accogliere persone che hanno potenzialità differenti. Questo credo che sia uno dei punti di forza della nostra comunità e un punto che arricchisce sicuramente la comunità di un punto rispetto ad altri. Ti ringrazio, grazie mille.